Professor Bennato, professor Di Tullio, professoressa Tota, l'offerta della settimana analizzata, giudicata, criticata, quello che volete da voi. Professor Bennato, lei continua ad avere gli occhiali come i miei. Eh? E non so se è proprio così, però in questo periodo sto meditando di cambiare montatura, quindi forse ne prossimamente ci troveremo. Io non cambierò montatura, intanto l'offerta della settimana. Allora, l'offerta della settimana mi sembra piuttosto interessante, ci sono un sacco di pellicole che hanno suscitato la mia attenzione. Andando in ordine di quelle che mi hanno più colpito, in primo posto c'è sicuramente la zona di interesse, perché appunto da quello che ho potuto vedere o che ho potuto leggere in giro a un'estetica che, diciamo così, rinnova il racconto dei campi di concentramento e dell'olocausto. Quindi questo, appunto, questa dimensione della glaciale banalità del male me lo rende una pellicola che ho voglia di vedere, soprattutto perché è proprio per il modo con cui ragiona più che altro per sottrazione rispetto a quello che noi sappiamo dell'olocausto. Poi, in seconda battuta c'è Bob Marley, One Love, per due ordini di motivi. Prima di tutto perché a me piace molto la musica reggae di Bob Marley, quindi, diciamo così, quando ero ragazzo, era una delle colonne sonore delle mie avventure estive, nel senso, diciamo così, legate alla spiaggia e al mare. Ma soprattutto perché mi piace molto ricordare anche la dimensione profondamente politica del rastafarianesimo che stava dietro la musica reggae di cui Bob Marley è stato un rappresentante molto importante. Quindi, soprattutto, anche le lotte dei diritti civili visti attraverso la potenza del messaggio musicale. Dopodiché c'è Night Swim, l'horror legato alla piscina. Perché io ho visto il corto, perché qualche tempo fa girava su YouTube, era, come si dice, molto virale su YouTube questo corto, e sono curioso di vedere come si è trasformato in un lungometraggio. Quindi, più che altro, c'è una specie di gusto di tipo di semiotico, si può dire in questo modo. Anche se, devo dire la verità, da appassionato di horror non me lo sarei fatto sfuggire. Poi dietro ci sono alcuni numi tutelai dell'horror contemporaneo, quindi why not. E poi, in ultima battuta, mi intriga moltissimo Volare, di Margherita Bui. Un po' perché, rispetto a tutte le altre pellicole che ho citato, è un momento di relax, no? Anche emotivo, diciamo così, dal punto di vista della commedia italiana. Ma poi perché, secondo me, la dimensione della paura di volare, resa con le nevrosi anche contemporanee, secondo me è una perfetta sintesi del mondo in cui viviamo. Cioè, dobbiamo adattarci alla tecnologia perché altrimenti non possiamo vivere a pieno sia la nostra identità che il mondo che ci sta intorno. E secondo me è un buon punto di partenza per capire questo ventunesimo secolo. Annalisa, Annalisa Tota, lei che dice?